Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle due monete viola della settimana set di Fortnite. Le monete non ci sono ancora, ma saranno disponibili dalle 15 di questo giovedì. La prima moneta si trova qui, alla foresta frignante. Adesso scendo e vi mostro il punto esatto e un punto di riferimento. La moneta la troverete qui, dove sono atterrato io, dove c'è questo masso e questi tronchi d'alberi. Qui praticamente, dove sono io, qua. Quindi potete prendere in esame questi edifici. Quindi diciamo tra questi due edifici qui c'è la moneta viola. Passiamo alla seconda e ultima moneta della settimana. La seconda e ultima moneta viola della settimana set si trova qui, su questo isolotto vicino Castello Corallo. Isolotto molto famoso perché, diciamo, ci sono degli aerei schiantati. Sicuramente avrete visitato questo isolotto in passato, quindi è una località molto famosa. La moneta viola si trova praticamente nel cespuglio accanto a questo detrito qui, dove ho messo il punto io, praticamente qua. Quindi voi atterrate. Qui c'è la moneta viola. Dove sono io, vedete? A Castello Corallo. Grazie.